La sezione espositiva ora comprende 13 costumi, 6 costumi maschili e 7 costumi femminili. Nella vetrina, davanti alla pedana, vengono presentati gli accessori dei costumi tradizionali. Da sempre la donna ama il vezzo, le piace abbellire il suo abito con ricami e soprattutto con gioielli, perle veneziane, fili di pietre semipreziose come cristalli e coralli con lane. Nella vita di tutti i giorni, le donne indossavano un numero minore di gioielli. Solo durante le feste, il costume veniva impreziosito con fili di perle, composte da pietre preziose o semipreziose. Venivano indossati anche orecchini, anelli e braccialetti. Sono presenti in esposizione anche campioni di ricami tradizionali, fibbie, cinture, fular. Sulla parete di fondo vi è un murales realizzato da Filimon Muraro, che rappresenta la ora del villaggio. Il dipinto rappresenta un paesaggio con case tradizionali, con cancelli in legno e recinzioni in pietra, con case a due falde, con giardini e alberi vigorosi, dalle foglie autunnali dorate. Un pozzo e una chiesa. Al centro dell'immagine ci sono molti abitanti del villaggio, raccolti attorno ai giovani, che ballano in cerchio formando una ora. Nella vita quotidiana del villaggio, solitamente, in una zona centrale, in uno spazio ampio e pulito, si danzava la ora. Questo era il luogo di incontro della comunità. Secondo la tradizione, i ragazzi organizzavano la ora, raccoglievano denaro, si accordavano con musicisti e li pagavano per suonare. Le ragazze, che erano esentate dal pagamento invece, organizzavano il pasto per i musicisti. Si organizzavano sette ore all'anno, obbligatoriamente, in occasione delle grandi festività. Natale, San Vassile, Epifania, Pasqua, Domenica Santa, Ascensione del Signore, festa patronale del paese. Le danze iniziavano a mezzogiorno, dopo la fine della liturgia religiosa in chiesa, e finivano intorno al tramonto. Alla ora partecipavano ragazze e ragazze, giovani sposati da poco, ma anche genitori, nonni, figli, ciascuno inserendosi nel suo cerchio danzante. Ragazze e ragazze entravano nella ora al compimento dei sedici anni. Ritualmente, con tutti gli onori, a Natale o a San Vassile. I nuovi giovani venivano accolti gridando i vivat, e venivano sollevati fessosamente da terra. Poi, in segno di gratitudine, loro offrivano ai presenti una damigiana di vino. Se il ragazzo ignorava l'usanza ed entrava nel cerchio della ora di sua iniziativa, senza il consenso del gruppo dei ragazzi, veniva punito lo stesso giorno. A ballo terminato, veniva catturato e costretto a bere da un secchio dell'acqua salata. Il giorno successivo, il colpevole doveva offrire una damigiana di dieci litri di vino al gruppo di ragazzi di cui doveva far parte, per far pace con loro. Questo gesto sanciva il suo diritto di partecipare in seguito alla ora. In tutte le località, i primi ad iniziare i balli erano i maschi, e l'ingresso nella ora delle ragazze era riservato al secondo ballo. Ballavano solo se invitate dai ragazzi, e dovevano ballare con tutti i ragazzi che li invitavano. Se la ragazza rifiutava di ballare con un ragazzo, veniva portata fuori dalla zona di ballo con accompagnamento musicale specifico e rimandata a casa. Per tornare al ballo, i genitori dell'esclusa dovevano offrire da bere ai giovani, e il ragazzo che era stato rifiutato doveva invitarla di nuovo a ballare. Partecipando alla ora, i giovani acquisivano una nuova identità. Venivano visti e accettati come persone mature e responsabili. La ora era una festa contadina in cui si ballavano balli popolari, i cui passi erano conosciuti da tutti gli abitanti del villaggio, dai più piccoli ai più grandi. La ora contribuiva all'organizzazione e alla socializzazione dei giovani, al rafforzamento del sistema dei valori, alla trasmissione dell'esperienza sociale e culturale da una generazione all'altra. In questo contesto si è sviluppata e trasmessa nel tempo la ricchezza della musica e della danza tradizionale. Al ballo del villaggio, i contadini si vestivano con gli abiti festivi più belli. Il costume tradizionale moldavo è una delle tante versioni del costume romeno, avendo un posto d'onore nel patrimonio dei costumi tradizionali dei popoli del mondo. La mostra dei costumi presenta la ricchezza e la bellezza del costume tradizionale. Descriveremo, da sinistra a destra, a semicerchio, i tredici costumi esposti in vetrina. I costumi sono rappresentativi degli abitanti del nostro spazio culturale, risalenti ai secoli XIX-XX. I primi tre pezzi esposti rappresentano l'abbigliamento tradizionale della parte settentrionale della Moldova. Due costumi invernali da uomo, con cappotto e cappello di pelliccia, ed un estivo da donna, con un folare. Poi ci sono due costumi, maschili e femminili di Kamenka, quello da uomo, con una camicia ricamata davanti e colletto dritto, con un'ampia cintura rossa, con un cappello di paglia e quello della donna, con un abito senza maniche e uno scialle scuro. Figura 6, un abito da uomo della zona centrale della Moldova, con una camicia lunga, colletto classico, cintura larga e cappello. Al centro, modelli 7 e 8, ci sono un paio di abiti da sposa, da donna e da uomo della regione di Cernauzzi, con corpetti ricamati con fiori colorati. Il numero 9 presenta un costume femminile della collezione del Museo Zemswa, ricamato con fili di lana scura e con una gonna rigata a strisce orizzontali, con una cintura stretta, con un folare e un ricco filo di perline. Numero 10 e 11, costumi bulgari, quello maschile con berretto, cappotto e pantaloni pesanti di colore scuro e cintura rossa e quello femminile con camicia bianca, con abito senza maniche e grembiule pesanti, decorato con ricchi fiori, con cinture, con fibbia metallica intarsiata e due file di perle, con folare giallo e fiore rosso. L'oggetto 12 è un costume femminile popolare della regione di Vulcanest, con una camicia bianca, un folare e una gonna nera, decorata con elementi geometrici. Completa la serie il costume da donna gagausa di Comrat, con camicetta e gonna lunga di colori scuri, con corpetto in pelle bianca, con decorazioni geometriche, con folare giallo e perline. Il costume nazionale moldavo è sobrio, ricco di colori e di luminosità, che mette in risalto ogni fase e aspetti della vita umana. Giovinezza e vecchiaia, gioia e tristezza, ma anche i momenti più importanti della vita familiare. La nascita di un figlio, il battesimo, il matrimonio e la morte. Fin dall'antichità nella casa contadina si confezionavano abiti di lino, cannapa, cotone, seta, lana, crine e cuoio naturale. Tutti i capi di abbigliamento che compongono il costume sono importanti, tuttavia la camicia è considerata essenziale nella realizzazione del costume, per mantenerla nel circuito dei valori mondiali. La camicia con il petto e le maniche ricamate, il primo dicembre 2022, è stata iscritta dall'UNESCO nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. La camicia da donna copre gran parte del corpo e presenta le decorazioni più ricche. In base al taglio distinguiamo camicia dritta, camicia ricciata al collo oppure camicia con inserti ricamato. La tipologia più antica di camicia è quella ricciata al collo, presente soprattutto nelle regioni settentrionali e centrali, meno diffuse nelle zone meridionali. La camicia è impreziosita da motivi ornamentali, posti sul petto, sulle maniche attorno al collo, sul grembo. Il ricamo occupa poco spazio rispetto allo sfondo bianco della camicia, ma è ben visibile, di grande effetto. La bellezza della camicia racchiude in sé il gusto artistico della sarta e le tecniche di ricamo da lei applicate alla camicia. I motivi, nella stragrande maggioranza, sono geometrici, mentre quelli vegetali sono fortemente stilizzati. I colori base sono rosso, nero, bianco, a cui si aggiungono accenti di giallo, blu, marrone, verde per sfumare la freschezza e l'armonia dei colori, essendo ricamati con fili di seta, lana, moulinée, filo metallico, paillettes, perline. Il secondo capo di abbigliamento del costume femminile è la gonna. Veniva tessuta in ambito domestico, con fasce ornamentali in basso o su tutta la superficie, con motivi vegetali stilizzati e geometrici. Era solitamente nera o nelle tonalità di blu. I ricami floreali tessuti sono di diversi colori. Sotto veniva indossata una conna bianca, che aveva l'orlo decorato con ricami. La gonna è stretta in vita, la cintura. Fasce, corde intrecciate e pregiate in lana o crine di primissima qualità, con decorazioni geometriche, vegetali e floreali. Nel guardaroba femminile si potevano trovare diversi copricapi, foulard con ricami tradizionali, sciarpe, foulard di cotone o di seta, scialle quadrato di stoffa bianca con ricami e merletti. Foulard di lana molto sottile, scialle pesante e grandi fazzoletti. Sopra la camicia, quando faceva freddo, si indossava il gilet, che era fatto di pelli di agnello, con pelliccia all'interno, con i bordi impreziositi da riccioli di pelliccia nera. Il gilet festivo, invece, era ricamato con perline colorate. I costumi della zona camenca differiscono nella loro struttura dagli altri costumi delle aree etnografiche della Moldova. Sono caratterizzati da una diversità di forme, taglie e colori. La camicia da donna di camenca, arricciata al collo, conserva la tradizione dell'antico capo. Il ricamo della camicia ha i seguenti motivi, la spiga di grano e l'albero della vita. In origine, la camicia veniva indossata con la gonna, ma più tardi, sotto influenza ucraina, fu indossata con un vestito senza maniche, impreziosito da strisci di velluto, cinto al centro da un'ampia cintura di raso, rosso, e sormontato da una stretta cintura di lana. Le donne in questa zona indossavano calzi di lana, scarpe o stivali con i lacci. Caratteristica della zona centrale è la camicia abbalza, con motivi geometrici e a esse la gonna, il gile di pelle o di lana pesante, la gonna lunga. Il costume femminile della zona meridionale era costituito da una camicia con inserti, ricamata sul petto con motivo floreale, con maniche ampie e rifinituri in pizzo. Si distingue dalle altre zone per i suoi colori pastello, ornati modestamente, con motivi geometrici intrecciati e ricamati. Per il costume femminile meridionale sono essenziali il grembiule ricamente ricamato con motivi geometrici e vegetali e la gonna bianca di lana con decorazioni a bande verticali. I fazzoletti sono accessori dell'abbigliamento festivo delle ragazze, la loro socializzazione, il loro ingresso nella società per confermare la proprietà. Veniva indicato dal fazzoletto che esibivano. La ragazza che faceva ingresso nella cora teneva sempre con sé un fazzoletto, lo stringeva in mano oppure lo fissava alla cintura in modo che gli altri potessero unirsi a lei durante il ballo. I ragazzi che partivano per il militare ricevevano in dono un fazzoletto realizzato dalle mani della ragazza che amavano. In altre regioni del paese la futura sposa preparava insieme alle sue amiche dei fazzoletti che venivano regalati ai testimoni di nozze dello sposo e della sposa da fissare al petto durante la cerimonia. Durante le feste tutti indossavano calzature di cuoio, stivali, mocassini, scarpe. Le donne indossavano stivali, stivaletti o scarpe che avevano un tacco alto, mocassini con bottoni su un lato e una punta legata con lacci. Fanno parte del costume popolare maschile i seguenti pezzi. Un cappello di pelliccia per l'inverno, un cappello di paglia o di feltro in estate, una camicia, pantaloni larghi bianchi, gilet, capotto, cinture, stivali o opinci. I capelli realizzati con pelliccia di agnello avevano diversi modelli. Il cappello alto o tuguiata, chiamato anche turcaniasca, indossato al nord e al centro, il cappello mocaniasca, popolarmente chiamato re tesata, indossato dagli abitanti dei villaggi del sud. Nell'uso contadino i più comuni erano i cappelli di paglia. In estate, durante la stagione calda, un cappello di questo tipo proteggeva la testa, garantendo la libera circolazione dell'aria. A differenza del cappello di pelliccia, quello di feltro ha avuto una minore diffusione nel nostro spazio culturale. Veniva realizzato in bottega, indossato dai masilis e dai razzesi alla fine del XIX secolo, influenzati dalla cultura urbana. Gli uomini dei villaggi del sud portavano cappelli impreziositi da fiori. La camicia da uomo aveva diversi tipi di taglio, a tunica, con abbottonatura o con inserti. La parte anteriore e quella posteriore erano tagliate da un unico pezzo di stoffo. Ciascuna manica da un unico pezzo di materiale, con un colletto piccolo, dritto o con risvolto, che si allaccia con due cordoncini. Il ricamo si trova sul colletto, sul petto, sulle spalle, sulle maniche e sugli orli della camicia. Il ricamo è di solito eseguito in un solo colore, blu, verde, cilieggia, giallastro, marrone, nero. La camicia da sposa, molto spesso, era ricamata con filo bianco. Alla vita la camicia era legata con un'ampia cintura, lunga 3-4 cm, larga 18-20 cm, di lana o di pelle intrecciata in due, tessuta in quattro più fili. I giovani indossavano cinture decorate con motivi geometrici e floreali. Gli uomini più adulti avevano cinture rosse, oppure cinture di lana di colore naturale. Si indossavano anche le cinture realizzate in cuoio, guarnite con applicazioni di pelle colorata e borchie di metallo. Questi cinturoni erano indossati da uomini con uno stato sociale e materiale più elevato ed erano utilizzati per portare con sé il portafoglio, il coltello, la pipa, la selce e l'amnar, un metallo usato per accendere il fuoco per la pipa. D'estate si abbigliavano con vestiti, con le camicie e gli smene, una specie di pantaloni stretti in vita da un filo chiamato bracinar. Gli smene o i tari erano cuciti da un sottile tessuto bianco filato in casa, intrecciato in due fili di cannava, lino o cotone. Erano indossati, infilati negli stivali o lasciati sopra le scarpe. Gli tari erano considerati pantaloni festivi, ma da indossare anche quando faceva fresco. Erano cuciti secondo lo stesso taglio degli smene, da un tessuto di lana di capra, intrecciato in quattro fili. I bernevici, pantaloni larghi e lunghi da contadino, fatti di tessuto spesso, completavano l'abito maschile in inverno. Erano cuciti da un tessuto di lana di pecora, tessuto in due fili e poi imbottiti in modo da crescere il loro spessore. Erano del colore naturale della lana, molto spesso marrone, ma potevano essere anche grigi o neri. Il gilet copriva la vita o la oltrepassava in lunghezza. Quello specifico della tradizione dei villaggi settentrionali è aderente al corpo, aperto sul davanti, ricamente ornato sui bordi per sottolineare le linee principali dell'abito. La decorazione delle applicazioni in pelle è stata arricchita con l'ausilio del ricamo. Il gilet, diffuso nei villaggi del centro e in quelli del sud, è leggermente più ampio, conserva il colore naturale della pelle di pecora e presenta applicazioni con motivi pastorizzi realizzati in cuoio marrone o nero. Il suman è un mantello molto diffuso in tutte le località. Se ne conoscono due tipi, suman dritto e suman svasato. I suman erano di diversi colori, mantenendo però sempre le tonalità naturali della lana. Marrone, bianco, nero, grigio chiaro. I suman più comuni erano quelli marroni, che venivano indossati sia nei giorni normali che nei giorni festivi. La traista è una borsa a tracolla e un pezzo di grande utilità, frequente in gran parte del paese come accessorio del costume popolare, sia femminile che maschile. La maggior parte delle borse erano realizzate con tessuti di lana, di forma rettangolare e quadrata, con motivi geometrici e floreali. Le calzature da festa preferite erano le scarpe, mucais, stivali, stivaletti. Durante la ratura, la semina, la falciatura, la metitura, il pascolo delle pecore o delle mucche, la calzatura migliore era lopinci, una scarpa di cuoio molto semplice. Il costume nazionale bulgaro, la caratteristica principale del costume femminile, può essere giustamente considerata una varietà del sarafan, un vestito senza maniche, vestito e gonna. L'elemento base del costume nazionale femminile è il suqman, un sarafan indossato con o senza maniche, decorato nella parte bassa con un nastro di velluto e ricami. Sopra il sarafan o la gonna c'è il grembiule. La seconda versione del costume femminile è la saia, costituita da una camicia a maniche lunghe. La lunghezza della gonna può variare dalla metà del ginocchio alla caviglia. I cori principali dell'abito saia sono il nero, il bianco e il blu. Sopra si indossavano grembiule ricamade oltre al suqman. Sul capo le donne portavano un fazzoletto bianco con ricamo sull'orlo, sormontato da una sciarpa di cotone giallo e nero, in alcune parti impreziosita da uno o due fiori. Portavano collane di perle e di pietre preziose intorno al collo. Il costume nazionale maschile bulgaro è caratteristico per il suo colore scuro. Il costume è composto da camicia, pantaloni, gilet, giacca, cintura, cappello e stivali. La camicia è cucita in tela di cotone, tessuta in condizioni domestiche, di colore bianco con maniche strette che terminano con un polsino. Il colletto stretto e verticale si chiude sul davanti ed è impreziosito da ornamenti, oltre ai polsini, al petto. L'ornamento è composto da ricami geometrici eseguiti con fili di seta gialla. I pantaloni larghi, cuciti in panno di lana, sono di colore testa di moro. La giacca ha il colletto in piedi, manica stretta, polsino ampio ed è impreziosito da inserti. La camicia si chiude con un'ampia cintura rossa con bordi sfrangianti. Gli uomini portavano stivali di pelle nera, non troppo alti, con ferri di cavallo. Il costume femminile gagahuso è composto da camicia, gonna, grembiule e foulard. La camicia è realizzata in tessuto artigianale, impreziosita da pizze e bottoni. Ha il colletto dritto, la manica stretta, arricciata sulla spalla con polsini. L'ampia gonna, realizzata in lana tessuta in casa, è arricciata sul retro. Il grembiule è un accessorio del costume femminile, tessuto in condizioni domestiche. Il più delle volte è di colore scuro. Gli orli sono rifiniti con un nastro di velluto e il bordo con un pizzo sottile. Le donne indossavano un folar di cotone con frangi di sete. Hanno dato sul retro del capo. Le scarpe di cuoio nero, realizzate dai calzolai, avevano un tacco non troppo alto. Le parti principali del costume maschile gagahuso sono la camicia, i pantaloni, il cappello, il gilet. La camicia è realizzata in stoffa fatta in casa. Il taglio è del tipo a tunica con due lati di stoffa. Termina davanti o di lato. Ha il colletto dritto e stretto. La manica destra si chiude con un polsino. I pantaloni sono realizzati in tessuto di lana prodotti in casa. Un accessorio del costume è il gilet. Quando faceva freddo, gli uomini indossavano berretti di pelle di agnello e in estate cappelli di paglia. Le tradizionali scarpe da uomo sono fatte di pelle di maiale e sono chiamate charik, una varietà di opinci, che venivano indossate con spesse lunghe calze, tessuti in casa e legate con uno stretto laccio di cuoio.